come una pedalina va bene, andiamo avanti ne vogliamo dire un'altra questa è l'Enel qua ci sta scritto per non andare oltre ci sta di leggere, comunicheci il nome, capito, il tuo contatore dal 6.3 al 33 io le so fatte vedi, comunicare che ci sta scritto comunicare, letture, contatore devi fare l'autolettura del contatore ho chiamato otto volte il consente non ce le so fatte perché? perché non risponderò mai ti dici, prema l'uno, poi premi il due poi premi il tre, poi premi quelle di sorte premi quell'altra premi quell'altra, premi di qua di fatto tu ti stai premati già lo dite, te sanghi lo usate tu a un certo momento casca la linea e arbi da casa capito? sozzoni! perché quando loro lo vanno a leggere loro che ce l'hanno tutto automatizzato stranamente ci sta sempre nel kilowattore di più i metri cubi di più dentro al gas cioè c'è sempre di più oh, mai una volta che ci stesse di meno no, figlio mai quindi cari ragazzi non lo so che volete fare